Salve straordinari spettatori del nostro canale. Un caloroso benvenuto. Proseguiamo nel supportarti nell'esplorare il mondo delle celebrità sulla nostra pagina. Per essere sempre aggiornato su nuovi contenuti, ti invitiamo a iscriverti al canale e attivare le notifiche prima di guardare i nostri video. Puoi anche sostenere la nostra community cliccando sul pulsante Iscriviti. Notizie recenti sulla gravidanza di Dimetros Demir, Dichiarazione ufficiale del suo medico. Assicurati di guardare fino alla fine per dettagli approfonditi sull'argomento. Sei nel posto giusto per accedere alle ultime informazioni. La celebre attrice turca, Dimetros Demir, ha recentemente destato l'attenzione con una notizia che ha fatto ecco nel mondo delle riviste. Le voci sulla sua gravidanza, circolate sui social media e sulla stampa scandalistica, sono ora confermate dalla dichiarazione del suo medico. I fan della rivista di Dimetros Demir hanno accolto con entusiasmo questa lieta notizia. La sua brillante. Carriera televisiva la rende una delle figure più rilevanti in Turchia, nota per le sue interpretazioni in progetti come No, 309, Erkensikus e Dudu Nebuka Derindir. La moda premaman di Dimetros Demir ha attirato l'attenzione, influenzando le tendenze nel mondo della moda turca per le donne in gravidanza. Restate con noi per le ultime novità e iscrivetevi al nostro canale per essere sempre informati. Grazie per essere stati con noi e alla prossima!